Proviamo a costruire insieme la drammaturgia di tutto su Eva, la sinossi. Margot Channing, una diva di Broadway non più giovane, si fa convincere dalla giovanissima Eva Harrington, una grande fan, ad assumerla come segretaria. In realtà Eva sogna di diventare un'attrice, quello che vuole è diventare la nuova Margot Channing. O anche prendiamo una delle sinossi del film che ci sembra centrare piuttosto il punto. Sin dal momento in cui incrocia lo sguardo del suo idolo di Broadway, Eva Harrington, Ann Baxter, lotta instancabilmente per rubare la scena a Margot Channing, Bette Davis. Dopo averle rubato il ruolo, Eva manda in frantumi le vite di tutte le persone vicine all'attrice. Volutamente in questo caso abbiamo deciso di non preparare nulla o meglio di approcciare la sceneggiatura e il film proprio mentre scriviamo questo capitolo. Per rendere più chiaro e visibile l'approccio che metteremo in atto per trasformare tutto su Eva in una social serie. Mentre quando decidiamo di inscenare in camera un testo teatrale e partiamo proprio dalla drammaturgia, nel caso del film da autrici decidiamo di prendere proprio il film come punto da cui partire. Ci spieghiamo meglio. Procederemo alla costruzione della social serie non tanto dalla sceneggiatura che ci servirà in un secondo momento ma dal film. Quindi anche la regia e le interpretazioni attoriali diventeranno per noi il testo da riadattare. Stamattina, per noi che scriviamo è stamattina, per voi che leggete potrebbe trattarsi di una mattina di sette mesi fa, prima di iniziare a scrivere questo capitolo abbiamo rivisto All About Eva. Lo abbiamo fatto col taccuino in mano, noi siamo romantiche, voi potete anche farlo con l'iPad alla mano. Abbiamo visto il film con l'obiettivo di decidere a quale personaggio affidare il racconto della storia in quale modo, ovvero se rispettare o meno la struttura del film. Il film si apre con la voce narrante del critico teatrale Addison DeWitt. Siamo alla premiazione della giovane promessa di Broadway, Eva Harrington. In sala da applaudire con più o meno trasporto il successo della nascente stella, tutti quelli che scopriremo essere i protagonisti del film. Bene, qui ci troviamo di fronte alla prima scelta. Rispettare o meno la struttura del film, per l'epoca estremamente moderna e dirompente. Il film parte con un racconto fuori campo. Prima di guardare il film, avevamo deciso sulla scia di quello che ricordavamo che sarebbe stata senz'altro Margot Channing la vera protagonista del film, interpretata da Ben Davis a raccontare la storia. Lei con la sua fidata governante, Beardy Conan. Da qui tiriamo il primo insegnamento. Non affezionarsi mai all'intuizione che si ha. Bisogna confutarla fino allo sfinimento, capire se la scelta sia veramente in grado di reggere la storia e soprattutto se la scelta sia quella che violenta meno il film originale. Quindi noi siamo partite da quest'idea e alla luce di quest'idea abbiamo riguardato il film per la seconda volta. E sì, bisogna vederlo e rivederlo più volte. Questa avrebbe potuto essere la scelta giusta se avessimo deciso di partire dalla fine come avviene nel film. Ma il film per sua struttura, partendo dalla fine, riesce a conservare il mistero che lentamente si svela di come Eva Harrington si è arrivata a conseguire quel premio. Mentre noi avremmo dovuto esplicitarlo subito, impedendo così al personaggio di Margot Channing di condividere in maniera vera, immediata e diretta le emozioni, le contraddizioni della sua anima e del suo carattere, laddove nella sceneggiatura emergono e si manifestano. Questi esempi valgono come illustrazione del metodo di approccio, quindi cercate di trarre da voi il metodo. Decidiamo allora che l'idea giusta è quella di riadattare tutto su Eva seguendo il concetto di tempo parallelo di cui abbiamo parlato nel secondo paragrafo di questo libro. Bene, che facciamo? Mettiamo stop al film e lo facciamo ripartire dall'inizio. Ora, per quanto un personaggio nella social serie, per convenzione, esca dalla struttura della storia, del soggetto, del copione, del film, della pièce, per raccontare la sua storia, dobbiamo comunque, per quanto ci è possibile, trovare un motivo valido per cui quel personaggio senza l'esigenza di condividere il suo racconto. Consce di ciò, avendo deciso che debba essere il personaggio che fu di Bette Davis il vero protagonista della storia, ci rendiamo conto che è nel secondo atto che la nostra protagonista potrà entrare in scena, quando cioè inizierà a rendersi conto della doppia personalità e dell'arrivismo di Eva. Scegliendo questa strada però perderemmo troppe sfumature e troppi tratti salienti della sceneggiatura. Margot sarebbe già troppo consapevole e non si svelerebbe al pubblico in tutte le sue sfaccettature, non permetterebbe allo spettatore di pensare con lei, di aiutarla a capire e di mettere in dubbio la verità. Allora ci siamo chieste, quali tra questi personaggi non si fa abbindolare da Eva? Chi per prima capisce che Eva Harrington nasconde qualcosa? Birdie Conan, la fidata governante e amica. E non è un caso che la maestria dello sceneggiatore ci offre il suo sguardo come indizio sin dalle prime scene. Birdie è fuori dal mondo del teatro, non cede a certe lusinghe, il suo ego non è compromesso né gonfiato dalla presenza dell'apparentemente semplice e ingenua Eva. Abbiamo trovato la chiave. La prima che potrebbe sentire la necessità di condividere ciò che sta accadendo è proprio lei, la vecchia Birdie, e lo può fare dall'inizio del film. Birdie diventa quindi il nostro narratore onnisciente ed extra-diegetico, colei, che darà inizio alla social serie. Il personaggio di Margot entrerà solo in un secondo momento, quasi in cui punta i piedi, per poi prendere le redini del racconto. Siamo convinte, riguardiamo il film, e sì, l'idea fila. Si perde poco della sceneggiatura, il messaggio resta lo stesso, arriva potente. Margot può conservare tutto l'arco del suo personaggio. Questo però fino ad un punto di rottura. Non è credibile che Margot sappia tutto, che possa raccontare tutto. Ad esempio, nel film Margot non saprà mai che è stata la sua migliore amica, suo malgrado a tendere la mano ad Eva e farle raggiungere il successo fino a scavalcarla. Anche se il film ci lascia con il dubbio, se Margot lo abbia mai saputo, e noi quel dubbio lo espliciteremmo. Potremmo decidere di sacrificare molto della pellicola, della sceneggiatura, ma diventerebbe più una specie di biopic su Margot, e non è quello che vogliamo. Sebbene l'uragano Eva parta travolgendo in primis la vita della grande attrice Margot, non risparmia nessuna delle persone che ruotano attorno a lei, o perlomeno di tutti quelli che cadono nella sua trappola. A questo punto ci ricordiamo, ma già lo avevamo notato, che il film si apre con due voci narranti, due punti di vista. Quello del critico è quello di Karen Richard, la moglie del drammaturgo Lloyd Richard, migliore amica di Margot, che per prima cade nella rete di Eva. Partendo da quest'osservazione, decidiamo che la social serie sarà strutturata in due parti. Sebbene Margot Channing nel film resti la protagonista, nel terzo atto esce quasi di scena, e a reggere le fila della storia sarà Karen Richard. Per come è strutturata la social serie, noi già conosciamo Karen attraverso i racconti di Margot e di Beardy, quindi Karen entrerebbe direttamente in media res, raccontandoci tutti quegli intrecci che abbiamo intuito, ma di cui non abbiamo certezza. Ci viene dunque un'altra intuizione, usare il personaggio del critico Addison DeWitt cascando la figura degli opinionisti, potrebbe fare degli intermezzi che aprono e chiudono le varie condivisioni. Ora abbiamo le idee chiare, abbiamo una bozza della logline della nostra social serie. Beardy Conan, la governante di una celebre stella di Broadway, preoccupata dall'arrivo della giovane e addetta di tutti, semplice e genuina Eva Harrington, decide di cercare la complicità del pubblico e di convincere con l'aiuto del pubblico Margot ad aprire gli occhi. Margot, inizialmente contraria all'iniziativa di Beardy e per nulla d'accordo con lei sul giudizio che ha della giovane Eva, inizierà a confidarsi e a sfogarsi davanti alla camera, scavando nei meandri della sua vita. Condividerà con il pubblico il tramonto della sua carriera, ma anche l'inizio consapevole della sua vita da donna, lontana dai riflettori, riuscendo a sfruttare, avvantaggiandosene, l'arrivismo della piccola Eva. Se la vi dal male spesso nasce il bene. L'abbiamo buttata giù senza pensarci troppo, in questo momento serva a noi come guida, solo in un secondo momento la raffineremo. Questo è il nostro metodo, anche perché scrivere una logline è un'arte a sé. Bene, siamo pronti per riguardare il film e cercare di dividere in tre atti nella condivisione gli episodi della nostra social serie. Nel libro troverete la scaletta. Non siate fantasiosi, siate ricreativi, non siate analitici, siate sensibili, non siate curiosi, siate attenti, non siate giudicanti, siate comprensivi, non cercate di stupire ma di catturare, non cercate il reale ma il vero, non provocate ma manifestate. Il nuovo risiede nel modo, non nella forma. La forma è finita, i modi delle forme non sono infiniti ma sono meno finiti. Fate sì che i vostri personaggi, personaggi che avete scelto non facciano pensare il pubblico ma pensino insieme a lui, non lo facciano ridere ma ridano insieme a lui, non mettano in crisi lo spettatore ma si mettono in crisi insieme a lui, non fingano, possono mentire ma non fingere. La parola non è un espediente ma un atto.